Montefalcione è una comunità in lutto per l'improvvisa morte di Antonio Baldassarre, quarantenne, rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Roma. L'uomo che vive nella capitale ormai da tempo, ieri mattina si stava recando al lavoro a bordo del suo scooter, quando per causa ancora in corso di accertamento ha avuto un incidente, nel quale sono rimaste coinvolte un'auto ed un altro scooter. Ad avere la peggio è stato l'Irpino, morto sul colpo. Il quarantenne di Montefalcione era a bordo del suo scooteronda, dal quale è stato praticamente disarcionato per poi finire rovinosamente sull'asfalto. Feriti l'altro centauro ricoverato in codice rosso e l'uomo alla guida dell'autovettura. La morte di Antonio ha destato sconcerto il dolore a Montefalcione, dove vivono i suoi familiari, persone molto conosciute e stimate in paese. Parenti ed amici che si sono stretti al dolore immenso della famiglia Baldassarre ora attendono il rientro della salma in paese, dove si sbruggeranno le esequie di Antonio. Per i funerali del quarantenne non è ancora stata stabilita una data che potrà essere fissata solo dopo l'autopsia.